Buonasera a tutti, cari fratelli, cari sorelle, oggi è martedì 3 ottobre. Vogliamo ringraziare anche stanotte per il dono di questo giorno perché come sempre abbiamo sperimentato tutti noi la divina presenza della mattina fino a questo momento è una grazia essere qui un privilegio prima che finisce questo giorno vogliamo dedicare un momento all'ascolto della parola di Dio perché il nostro desiderio come già abbiamo spiegato è questo perché Dio Padre nostro sia l'unico e l'ultimo personaggio che ci parliamo prima di riposare e dormire. Il Vangelo dal Vangelo secondo Luca Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te o Signore. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli presse la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per prepararli l'ingresso ma essi non volero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. quando videro ciò i discepoli Giacomo e Giovanni dissero Signore vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si è volto Gesù e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore, laudate o Cristo. Cerchiamo di ambientare il Vangelo di oggi dove Gesù, in cammino verso Gerusalemme, è preso un città samaritano, un villaggio dei Samaritani. Ma questi samaritani cittadini impedivano Gesù e i suoi discepoli di passare attraverso o attraversare la loro città. I due dei discepoli, Giacomo e Giovanni, venivano chiamare fuoco dal cielo per distruggere, consumare gli abitanti di quel villaggio. Infatti, alcuni maniscritti, nel versetto 54, aggiunge come fece Elea. Perché quando leggiamo l'Antico Testamento, sappiamo che il profeta Elia, una volta, chiamò un fuoco dal cielo per consumare i suoi avversari, quelli che venivano per arrestarlo. Il secondo libro del re, capitolo 1, 10-12, il profeta Elia, nell'Antico Testamento, il secondo libro di re, chiamò fuoco per consumare quelli che erano mandati di arrestarlo. E' per questo motivo che alcuni maniscritti, nel versetto 54, aggiunge, Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi come fece Elea? Ma Gesù si è volto e li rimproverò. Perché Gesù si è volto e li rimproverò? Perché come abbiamo cercato di abbientare il Vangelo, Gesù era in cammino verso Gerusalemme. Il motivo suo era di andare a salvare, riscattare la vita, riscattare gli uomini. Gli apostoli discepoli non potevano avere un altro motivo di distruggere la vita che Gesù stava per salvare, riscattare. Non era possibile. Gesù sta per salvare la vita. Voi non potete distruggere la vita che Gesù stava per salvare. Il motivo suo è chiarissimo. Andando a Gerusalemme a salvare la vita. A salvare la vita. Infatti, il canto al Vangelo di oggi ci aiuta a capire e vi porto questo. Marco 10, 45. Abbiamo letto oggi, prima del Vangelo, anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi salvare. Ma per salvare, dare la propria vita. È un riscatto per molti. Sottolineiamo per molti, eh? Alcuni dicono perché non per tutti. La salvezza di Gesù non aveva uno scopo universale. Vi spiego questo. C'è la libertà personale di accettare la salvezza di Gesù. Per l'ora si rifiutarono i abitanti di quel villaggio di Samaria. Ma dopo la discesa dello Spirito Santo, come leggiamo nell'Acti degli Apostoli, capitolo 8, verranno i Samaritani a ricevere la buona notizia. E vi porto questo brano, Atti degli Apostoli. Atti 8, 5 in poi. Dopo la persecuzione dei primi cristiani, quelli però si erano dispersi e andarono di luogo in luogo, annunciando la parola. Guardiamo ora il versetto 5, Atti 8, 5. Versetto 8 Ma nel brano di oggi, si rifiutarono gli abitanti di quella città. Non era il momento per loro. E guardiamo, notiamo noi la pazienza di Gesù riguardo a questi. Quelli che rifiutano la parola di Dio. Quelli che non accolgono la parola di Dio. Tantissime volte manchiamo noi la pazienza. Noi. Cerchiamo di convertire tutti. Il nostro desiderio è questo, che tutti i nostri parenti, i nostri nepotini, vengano a credere. Vengano in chiesa. E' una bella cosa, vedendo tutti i nostri, che credono, che si presentano dinanzi a Dio, come noi. Ma per loro non fanno così. E a volte. Ci siamo turbati, perché questi parenti nostri non praticano la fede, non credono. E ci siamo stati turbati. Ma il Signore Gesù ci invita di coltivare la pazienza oggi. Andando a Gerusalemme per salvare la vita. E non si può distruggere quella vita che Lui stava per salvare, per riscatare. Per riscatare. Allora, carissimi miei, ora permettetemi di aggiungere questo. La prima lettera di oggi è bella anche. Quando noi cerchiamo di salvare la vita, non di distruggere come questi fratelli, già come i giovani. Che cosa accade, succede? La gente si unirà attorno a noi. Così diventiamo noi come falfale, come insetti, falfale spirituale, che porteranno nettare alla gente. La prima lettura di oggi. Perché noi diventiamo noi, o diventeremo noi come falfale, come insetti, falfale spirituale. La prima lettura di oggi, dal profeta Zaccaria, abbiamo sentito. Così dice il Signore degli eserciti. In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo del mantermo. E gli diranno, vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi. Ora, vogliamo venire con voi. Prima questi non credetero. Prima questi non accettarono la parola. Prima questi non avevano ricevuto la parola. Ma ora dicono, abbiamo saputo che Dio è con voi. Vogliamo venire con voi. Si riunirono attorno a noi. E sarebbe noi, saremo noi, apportarli al Signore. Diventeremo noi come falfale spirituale. Apportare, nettare. Gesù a questi popoli. E' bello. Non cerchiamo di distruggerli. Cerchiamo di salvare come Gesù. Verso Gerusalemme il motivo è unico e chiaro. Salvare la vita. Salvare la vita. Non facciamo noi, carissimi miei, come Giovanni e Giacomo. Coltiviamo noi il virtù della pazienza. Facciamo come questi insetti impollinatori. che portano innalzare, nettare alla gente. Sia questa la nostra preghiera stanotte. Aggiungiamo ora a conintenzione. Cari fratelli, cari sorelle. Cerchiamo noi, o desideriamo noi, che i nostri parenti vengano a credere, a praticare, o riprendere la fede. Il mio desiderio è proprio questo, vedendo i miei parenti che praticano la fede, ma tante volte non vedo io questo e credo che alcuni di voi trovano gli stessi sentimenti o sensazioni. Vi avvertite gli stessi sentimenti. La prima intenzione oggi rendiamo grazie a Dio per il dono della parola. La fede nostra, noi che per l'ora ci crediamo. Non è facile di ancora portare la fede. Ringraziamo il Signore per il dono della fede. per l'aver sostenuto questa nostra fede fino a stasera. Ringraziamo il Signore per la vostra vita, per questa fede che voi avete costruito fino a oggi. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltaci, oh Signore. Poi, preghiamo ancora perché il Signore ci faccia a tutti noi come falfale spirituale e ci fortifichi perché diffondiamo noi nel mondo, nelle nostre famiglie, nel luogo di lavoro, la gioia e la speranza. Portiamo nettare spirituale Gesù diffondendo la buona notizia, la gioia, la speranza nel mondo, nelle nostre famiglie, nei luoghi dove lavoriamo noi. Il Signore ci faccia a tutti noi come falfale spirituale che diffondano Gesù, che diffondano la gioia, che diffondano la speranza. Noi stessi, perché il Signore ci faccia le falfale spirituale, che hanno questo compito di portare Gesù agli altri. Questi insetti che sono belli, gli insetti impollinatori, che aiutano gli altri a conoscere la bellezza, a gustare la bellezza di Dio, della fede. Per noi stessi preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Carissimi miei, preghiamo ancora, preghiamo ancora, perché non diventiamo mai ostacoli per quelli che cercano sinceramente Dio. perché io non divento un ostacolo, perché voi non diventate ostacoli, perché nessuno di noi diventa, diventa un ostacolo per quelli che cercano sinceramente il Signore. Signore aiutaci noi, perché non diventiamo mai nel nostro cammino, nei nostri atteggiamenti, gli ostacoli per quelli che ti cercano sinceramente. Aiutaci. Signore. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo, perché il Signore ci dia la forza per coltivare la vita di pazienza, per accompagnare quelli che per motivi diversi si sono allontanati Dio. Coltiviamo noi la pazienza. Il Signore ci aiuti tutti noi. e il Signore ci sostiene a coltivare la pazienza per accompagnare quelli che per l'ora si sono allontanati da Dio, come i samaritani. Infatti, il popolo di Israel, gli ebrei, evitavano ogni rapporto con i samaritani. Quando leggiamo l'Antico Testamento, dopo l'esilio di Asiria, a quello babilonese, gli ebrei evitavano ogni rapporto. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 9 in poi, la donna samaritana, chiesa a Gesù, tu sai che il samaritano chiede a me da bere, perché non esisteva un rapporto fra i samaritani e gli ebrei. Ma guardiamo la pazienza che Gesù rivolgeva a questi samaritani oggi. Chiediamoli per questa virtù. e il Signore ci dia la forza di coltivare tutti noi la pazienza per accompagnare quelli che per questo momento si sono allontanati, perché vengano dopo a riconoscerlo, accettarlo, come è successo con i samaritani, come abbiamo sentito oggi nell'Acto dell'Apostolo, capitolo 8, versetto 5, 8 in poi. Ascoltaci, o Signore, preghiamo per tutti i nostri anziani, sacerdoti, laici e laiche, persone che ci avevano aiutato nella nostra vita, nel nostro cammino di fede, che portano tanti dolori in questo momento. Alcuni sono giunti all'ultimo momento della loro rita. Preghiamo perché il Signore li guarisca quelli che hanno bisogno della guarigione. Per quelli che soffrono portano tanti dolori invece. e il Signore gli dia un accesso alla casa sua. Accolga il Signore la loro anime e gli dia un accesso nel suo regno. pregando per tutti questi che soffrono. Il Signore li gioia la guarigione e accolga quelli che sono giunti all'ultimo momento della loro vita. e tutti quelli che soffrono negli anziani preghiamo ascoltaci un Signore. Signore dacci tutti noi il tuo bacio santo per farci noi e far farle sperituare così possiamo portare e natare Gesù a tutti quelli che hanno bisogno della buona notizia buona novella. Tu che vivi ai regni nei secoli dei secoli. Amen. Diventiamo cari i miei le falfalle spirituale. Buona serata a tutti e buonanotte. e buonanotte.